Partiti! In vantaggio Sopran Dapi davanti a Matrioska, Tausent, Sopran Rider, Polar Game, Sacegreia, Taulpa e Nunnale. Dopo 300 metri di corsa, in vantaggio Sopran Dapi davanti a Matrioska, Tausent, Sopran Rider, Polar Game, Sacegreia all'inizio della curva, prosegue in vantaggio Sopran Dapi davanti a Matrioska, Tausent, Polar Game, Sacegreia, Sopran Rider, Taulpa, poco prima dell'ingresso, in vantaggio Sopran Dapi davanti a Matrioska, Tausent e Polar Game. I cavalli entrano in dirittura. Con Sopran Dapi in vantaggio, attaccato all'esterno da Polar Game. Seguono Matrioska, Tausent, Sacegreia, passa Polar Game davanti a Sopran Dapi, Sacegreia, Matrioska, Tausent e da Taulpa si avvantaggia Polar Game davanti a Sacegreia, Matrioska e Sopran Dapi. Incontro favorito Polar Game. Grazie. 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 Grazie.